Vogliamo iniziare un percorso di confronto per una progettualità ovviamente a breve termine visto appunto che abbiamo anche dato manifestazione di interesse a questo distretto unico regionale che è un progetto molto ambizioso, vogliamo essere costruttivi per fare veramente della regione Marche la regione biologica più grande d'Europa. L'istituto Cecchi ci ha ospitati, però abbiamo anche la presenza, la partecipazione di tutti gli altri istituti alberghieri e agrari della provincia di Peso Urbino. Siamo molto orgogliosi di essere qui, a parte che il posto è stupendo, non mi aspettavo che questo istituto agrario avesse così tanti ettari di terra, perché mi diceva la dirigente scolastica che gestiscono all'incirca 50 ettari di terra e anche il seminativo, quindi diciamo che siamo veramente fieri ed orgogliosi di averli come associati nel nostro distretto perché possono essere veramente costruttivi per il distretto biologico terra e marchigiane che ha aderito, ha dato manifestazione di interesse al progetto di distretto unico regionale, quindi del biologico. Quindi confidiamo che appunto nello sviluppo e nell'istruzione, nella cultura anche del lavoro che stanno facendo questi istituti. Sono qui appunto presenti anche gli istituti alberghieri perché come l'agricoltura ha bisogno del terzo settore per chiudere la filiera, quindi per seguire quella che è la strategia del Farm to Fork, del Green New Deal dell'Europa, così appunto stiamo cercando di creare unione, di fare rete con il mondo scolastico affinché gli istituti agrari siano collegati, dialoghi in maniera aperta non solo con gli agricoltori ma anche con gli istituti alberghieri e al contempo con la parte diciamo del settore terziario. È una grande occasione, quindi la scuola grazie a questa collaborazione con Terra Bio riesce a inserirsi sul territorio e far comprendere agli studenti gli sbocchi di quello che sarà l'agricoltura del futuro. Ovviamente abbiamo la collaborazione anche con gli istituti alberghieri in quanto dobbiamo fare in modo che vengano completate le filiere dell'agroalimentare che vadano di pari passo la filiera formativa con la filiera produttiva del territorio, quindi è l'occasione per far sì che le scuole rispondano alle istanze del territorio. Il distritto biologico abbiamo accolto con piacere questo invito e segue un po' quelle che sono gli indirizzi della politica agricola comunitaria, cioè quella di avvicinare sempre più il territorio al mondo della produzione, quindi di accorciare sempre più la filiera. Per fare questo, quindi per investire in una filiera biologica c'è bisogno di conoscenze e informazione, ecco quindi credo che il connubio tra gli istituti tecnici e l'università, che poi sono il futuro possibile sbocco anche di queste figure, sia importante da questo punto di vista.